La giornata di ieri è stata una giornata molto importante, molto significativa, sia per quanto riguarda il settore giovanile dove abbiamo vinto per la quarta volta il torneo Beppe Viola, che è un torneo molto importante a livello giovanile, forse dopo il torneo di Viareggio è il torneo più importante che dà lustro e che rende merito al lavoro sfatto in questa stagione e negli anni precedenti a chi ha lavorato nel settore giovanile. Un plauso a Mr. Pellegrini e a Mr. Pavane che ha guidato precedentemente i ragazzi in questa fase, quindi sicuramente un premio. La vittoria della squadra ieri a Lanciano è stata un'ulteriore dimostrazione della nostra forza, questa sera siamo qua a celebrare l'inizio di una festa che possa concludersi come tutti noi ci auguriamo. Tutti dobbiamo prepararci a queste dieci finali che non sono dieci partite del campionato di Serie B ma vanno vissute come dieci partite, dieci finali di Champions League, che dobbiamo viverle col massimo della partecipazione, della voglia, della cattiveria agonistica e soprattutto dell'unione perché se noi siamo tutti uniti per gli altri penso che ci sia poca possibilità di portarci via il traguardo finale. Il campionato di Serie B prevalentemente è sofferenza, la squadra ieri ha dato dimostrazione, seguendo le indicazioni del Mr. Mandorlini e di tutti, di poter e voler soffrire. Il risultato di ieri ha un'avvalenza importante perché ora in questo momento non dipendiamo più dagli altri ma possiamo dipendere principalmente da noi. Dieci partite sono... Grazie a tutti.